Ciao ragazzi e bentornati, io sono Antonio e oggi come ogni settimana un nuovo video a tema Harry Potter. Ma prima di cominciare vi ricordo che su Pampling, utilizzando il mio codice sconto 7Potter, avrete sempre un paio di calzini in omaggio e il codice accumulabile con tutte le iniziative in corso di Pampling. Questa maglietta che indosso è una di quelle nuovissime a tema Harry Potter, ma ne trovate davvero di tantissimi altri fandom, vi lascio il link sotto in infobox. Sempre in infobox trovate anche il link alla mia vetrina Amazon dove acquistando qualsiasi prodotto tramite uno dei miei link contribuite a far crescere il canale, quindi grazie in anticipo per qualsiasi vostro acquisto che a voi non cambia nulla ma che a me dà una grande mano. Detto questo ragazzi parliamo del prodotto di oggi, sono super super orgoglioso e questo è sempre e solo grazie a voi che mi seguite, perché sono stato contattato da un'azienda americana che si chiama Theory Leaven, che naturalmente vi linkerò sotto in infobox, che produce carte, carte da gioco, ma le carte francesi per intenderci, quelle da poker, solo che produce queste carte tematizzate, ce ne sono della Marvel, degli Avengers, di Star Wars, di Ritorno al Futuro, ci sono davvero di tantissimi tipi, 007, hanno delle collezioni davvero molto molto belle e di recente hanno rilasciato una collezione di carte dedicata al mondo di Harry Potter. Quando le ho viste io sono rimasto incantato e loro sono stati così gentili da inviarmi tutto il set delle quattro case che ragazzi ha impiegato 7 vite ad arrivare perché arrivano dagli Stati Uniti e vi dico già che nonostante fossero un omaggio ho dovuto pagare le spese doganali, sono state molto basse, ho pagato 6 euro di spese doganali, quindi niente di sconvolgente, però hanno impiegato circa un mese ad arrivare. Ma in ogni caso sono qui con me, sono arrivate, quindi non vedo l'ora di aprirle e di scoprirle assieme a voi e intanto andiamo ad unboxare questa scatolina che tanto mi ha fatto attendere e vediamo cosa c'è all'interno. Uh, c'era anche un indirizzo dall'altro lato, spero non si sia visto. E vediamo un po'. Oh, ok, imballato molto molto bene perché abbiamo tutte le patatine gommose all'interno e quindi le andiamo a togliere. Ok, già le intravedo. Eccole qui, qui ne abbiamo due e qui ne abbiamo altre due. E adesso che ho sgomberato la scrivania posso mostrarvele meglio. Eccole qui, sono quattro. Sono quattro mazzi di carte, sono tutti sigillati naturalmente e sono appunto brandizzate Harry Potter e hanno anche le colorazioni delle quattro case. Questo è quello dedicato a Corvo Nero, infatti il pacchetto è in blu e oro. Poi abbiamo quello dedicato a Serpe Verde in verde e oro. Quello dedicato a Tassorosso in giallo e marrone, che è molto molto bello. E poi quello di Grifondoro in rosso e oro. Sono davvero super belle le confezioni. Vi dico già in anticipo che sono tutte uguali. Quindi l'unica cosa che cambia è il colore del pacchetto. Quindi anche le illustrazioni sono le stesse in tutti e quattro i pacchetti. E all'interno il dorso di ogni carta è naturalmente colorato in base alla casa. Quindi rossa per Grifondoro, blu per Corvo Nero. Ma adesso magari ne andiamo ad aprire solo un pacchetto. Perché anche le illustrazioni sono tutte uguali. Quindi il re, la regina, il joker, gli assi e tutto il resto sono uguali per tutte e quattro le case. Quindi ne vado ad aprire soltanto uno. Magari apro questo qui di Corvo Nero, visto che è quello della mia casa. E andiamo a spulciare assieme le carte che ci sono all'interno. Ragazzi, naturalmente trovate il link anche di questo prodotto in infobox. Non sono affiliato, non guadagno niente. Fate come vi pare. Mi sono semplicemente state omaggiate. Quindi io ringrazio tantissimo l'azienda. E qualora vi piacessero, sotto trovate appunto il link. Detto questo, cambiamo inquadratura e andiamo subito ad aprirle. Ecco qui ragazzi le nostre carte in tutto il loro bellissimo splendore. Mi piacciono davvero un sacco. Sono fighissime. E ragazzi, guardate quanto è bello il pacchetto. Oltre ad avere questa tinta verde smeraldo, ad esempio il mazzo di serpeverde. Ecco che abbiamo ai quattro angoli gli stemmi delle quattro case. Quindi il leone, il serpente, il corvo o l'aquila che non lo so, dipende dalle illustrazioni. E poi abbiamo anche il tasso. Ma inoltre troviamo anche i semi delle quattro carte. Quindi cuori, fiori, picchie e quadri. Abbiamo il castello di Hogwarts al centro. E poi abbiamo ancora la spada di Grifondoro, il medaglione di serpeverde, la coppa di Tassorosso e anche il diadema di Corvo Nero. Ma abbiamo anche un cameo del binario 9 3 quarti. E ancora abbiamo anche il boccino d'oro. Quindi è proprio pieno di dettagli molto molto interessanti. Anche le lettere abbiamo le iniziali dei quattro fondatori. Quindi Tassorosso, Corvo Nero, Serpeverde e Grifondoro. Mentre la costa è molto semplice. Troviamo una bacchetta con l'incantesimo Expetto Patronum. È davvero molto molto carina. E poi ancora il retro è molto molto elaborato. Troviamo di nuovo i quattro animali delle quattro case. In questo caso ecco che abbiamo il leone, abbiamo anche il tasso, qui in alto abbiamo l'aquila e sotto abbiamo il serpente. Quindi si può anche girare al contrario e l'immagine è speculare. Ed è molto molto bella. Come vedete anche negli altri colori le immagini sono sempre le stesse. E cambia invece l'incantesimo a quanto pare. No, è sempre lo stesso. Da una parte è Expetto Patronum, dall'altra Vingardium Leviosa. Ma le immagini sono esattamente le stesse. Ma adesso direi di andare ad aprire uno dei mazzi e punterei a questo qui di Corvo Nero. Andiamo a tirare la linguetta qui sul bordo e andiamo a scoprire come sono le card. Io vorrei tagliare il sigillo senza rovinarlo. Vediamo se riesco così col taglierino. Ok, un minimo si è rovinato ma pazienza. E andiamo ad aprire il pacchetto. Wow, bellissimo ragazzi. Guardate, abbiamo gli occhiali di Henry con la saetta e gli incantesimi Obliviate e Alomora. Davvero bellissimo. E guardate quanto è bella la carta all'interno. Questo dedicato a Corvo Nero ha all'interno lo stemma di Corvo Nero olografico. È davvero una figata. E adesso tiriamo fuori le carte. Carte che ragazzi ovviamente sono di altissima altissima qualità. Perché è un'azienda appunto specializzata in carte da gioco. Ed ecco cominciamo a sfogliarle. Abbiamo l'asso di picche. E ragazzi guardate quanto è bello. Abbiamo Edvige, Hogwarts, la spada di Grifondoro al centro, il boccino, l'ippogrifo. Abbiamo moltissimi dettagli, dei topolini qui in basso. È davvero bellissima. Poi invece nelle altre carte all'interno del seme troviamo l'elsa della spada di Grifondoro. E le altre sono tutte così. Quindi 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E poi ecco che invece il Jack è rappresentato da Neville. Che tiene in mano una pianta. Abbiamo anche il piccolo rospo Oscar. Che viene rappresentato anche all'interno del seme. Molto molto divertente, molto carino. Continuiamo con la regina che invece non poteva che essere l'una. E questa cosa è super divertente, molto molto bella. Luna con gli spettrocoli, con una copia del cavillo tra le mani. E poi all'interno sembrano esserci due coniglietti all'interno del seme. Anche la bacchetta è quella corretta. Quindi benissimo. Il re altri non è invece che Severus Piton. Che invece al suo interno ha una cerva all'interno del seme. E troviamo Piton con una copia di pozioni avanzate. E poi anche un'ampolla con una pozione in mano. Passiamo adesso invece al seme dei quadri. Che è dedicato a Corvo Nero. Quindi abbiamo all'interno il diadema di Corvo Nero. E lo stesso andremo a trovare in tutte le altre carte fino al numero 9 e 10. E poi il Jack. Questa volta è raffigurato da Sirius Black. Anche in questo caso lui ha la sua bacchetta in mano. Quindi bacchetta corretta. Ha al centro la targa di Azkaban. E poi troviamo, credo, un lupo mannaro qui in alto. O comunque un cane, credo sia Felpato. Forse la sua rappresentazione di Felpato. La regina incontrastata alla professoressa McGranit. E qui troviamo appunto dei gatti. Troviamo altri due gatti qui. E ragazzi, sono davvero fantastiche queste carte. Il re di quadri, invece, è il professor Silente. Professor Silente con una fenice sulla spalla. E ragazzi, anche all'interno del seme troviamo la fenice. Queste illustrazioni sono davvero bellissime. Passiamo invece al segno dei fiori. Dove troviamo Voldemort. Che rappresenta il re. E troviamo, guardate qui, Tom Riddle. Scritto sulla manica. E poi abbiamo la bacchetta di Voldemort. E all'interno del seme abbiamo quello che sembra essere un dissennatore. O qualcosa del genere. Molto bello anche il marchio nero ripetuto sul bordo della giacca. Hanno davvero un livello di dettaglio spaventoso, ragazzi. La regina non poteva che essere Bellatrix. Col marchio nero all'interno del seme. E poi troviamo anche la sua bacchetta corretta. E anche la testa di uccello. Lo scheletro di testa di uccello. Che porta appeso al collo. Lo troviamo ripetuto qui sul bordo. Molto bello anche questo. E poi il Jack è, invece, Drago Malfoy. Che al suo interno il seme riporta un drago. E poi abbiamo, appunto, Tom Felton con la sua bacchetta. E lo stemma della casa di Serpelerde. E invece all'interno di ogni seme delle carte numerate. Ecco che troviamo il medaglione di Serpelerde. E andiamo a scoprire, invece, l'asso di fiori. Che, appunto, altro non è. Che è sempre lo stesso seme. Molto più in grande. Passiamo ai cuori. Dove troviamo, sicuramente, i nostri protagonisti. Ed ecco che abbiamo Harry. Che rappresenta il re. Con il cervo all'interno del cuore. E poi abbiamo anche il boccino d'oro. Tenuto in mano da Harry. E la Nimbus. Molto, molto bella. Con la sua cicatrice. Questo stile mi piace davvero tantissimo. E poi abbiamo Hermione. Con la giratempo. Con la sua bacchetta illuminata. E con l'alontra. Che altro non è che il suo patronus. Quindi, credo, abbiano inserito a questo punto tutti i patronus all'interno dei semi. Qui abbiamo, appunto, il cane. Che è, invece, il patronus di Ron. Che troviamo qui con crosta sulla spalla. E la sua bacchetta. E poi, all'interno di tutti i cuori, troviamo la coppa di tasso rosso. Che a questo punto sarà anche all'interno dell'asso. Sì, eccola qui. Molto, molto bella. E poi abbiamo queste, che sono delle carte, credo che non servono a niente, rappresentative. E poi due joker. Uno con Dobby e l'altro con Hagrid. Quindi, molto, molto bello. Custode delle chiavi. E Dobby è libero. Molto, molto bella. Naturalmente, il retro delle carte va a riprendere la scatola. Quindi, il retro della scatolina. Molto, molto dettagliato. Molto belle. Secondo me, giocarci è un vero peccato. E vanno tenute assolutamente solo come pezzo da collezione. Detto questo, ragazzi, non andrò ad aprire tutti gli altri pacchetti. Perché le carte sono sempre le stesse. L'unica cosa che varia è, appunto, il colore del dorso. Che, in questo caso, sarà giallo, verde e rosso. Io ve le straconsiglio. Le carte di per sé non costano molto. Credo che tutto il set costi circa 50 euro. Quindi, il prezzo non è esagerato. Parliamo di circa 12-13 euro a mazzetto. In Italia, è un po' complicato trovarle. Ma, provate a fare una ricerca su internet. Magari saltano fuori da qualche parte. Qualche cartoleria, qualche fumetteria potrebbe avere dei pezzi in vendita. Magari ti pagate qualche euro in più. Ma non aspettate un mese e non pagate la dogana, la spedizione, eccetera, eccetera. Quindi, ci può anche stare. Io vi lascio in info box il link diretto al sito Theory Leaven. Che ringrazio tantissimo per avermi fornito questo set. E, ragazzi, fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti. Mi raccomando, lasciate un mi piace, commentate, condividete. E noi ci vediamo prestissimo con tante altre novità. Alla prossima! Alla prossima! Grazie a tutti